Odio, non c'è ideali, c'è solo odio. E adesso, tanto per cambiare, Vittorio da Roma. Avanti Vittorio, dimmi che c'è da fare. Lava Ucraini, Putin, porco, maiale, vaffanculo a tutto il Donbass. Questo qui in risposta a quell'altro vecchio maledetto di Berlusconi. Adesso non esageriamo. Io mi vergogno di essere italiano. Ma uno che dice che è da del pupazzo a Zelensky e tutto il resto... Non ha dato del pupazzo, non ha dato del pupazzo. Io mi vergogno di essere italiano e io vorrei, anzi una proposta del governo, dovremmo levare il voto a tutti i vecchi, quando arrivano all'età pensionabile. Ma che c'entra? Ma cosa c'entra ai vecchi? Dovremmo levarli da tutte le istituzioni, perché Berlusconi è soltanto un oltraggio alla democrazia, all'Occidente. E quindi vi dico di andare a fare il culo. Ma Berlusconi è un grande uomo, un grande italiano, un grande occidentale. Ma non si può dire così del Presidente Berlusconi, dai, su. Soprattutto è uno che ti paga lo stipendio, Cruciani, anche lui. Quindi sicuramente è un grande italiano da questo punto di vista, sicuro. Io se sento ancora le repubbliche autonome del Donbassio, io impazzisco, Cruciani. Non voglio più sentire questa stronzata. Non sono autonome, sono dell'Ucraina, porca troia. Bravo, bravissimo, bravissimo. Questo è l'orgoglio occidentale. Esatto, l'orgoglio occidentale. Questa è l'Italia. Altro che quel signore che esce dal seggio, rompe il silenzio elettorale, rompe alla Meloni, perché rompe pure alla Meloni, indubbiamente, e dice addirittura che Zelensky dovrebbe ritirarsi dal Donbass. Ma è la tesi russa. È la tesi del Ministro degli Estri, Lavrov. Grazie, signor Ministro. È quella tesi lì. Allora, Lavrov infatti è un mancia merda. Quello è palese. Quello si metterà dalla mattina alla sera a leccare il buco del culo di Putin soltanto per assaggiare le sue feci. Il dottor Lavrov. Senti come vanno d'amore e d'accordo Vittorio da Roma e David Parenzo. È effettuale. Ma ogni persona sarà di mente che dovrebbe dire questa roba. Ma vergognatevi, vi dovete vergognare. Volete la guerra atomica, volete la guerra nucleare voi. Questo è il punto. Ma baffanculo. Volete la guerra nucleare, volete. Volete la guerra nucleare. Per cazzo, l'analisi di quel vecchio del cazzo di Berlusconi è al pari di un ubriacone con la demenza senile che parla con i suoi amici. E chissà perché, chissà perché, chissà perché, chissà perché, chissà perché, perché c'ha 80 anni, non si deve ritirare dalla politica. Perché la maggior parte degli italiani la pensa come lui, chissà perché, chissà perché. Perché la maggior parte degli italiani non capisce un cazzo. Questa qui è la verità, Luciani. La maggior parte degli italiani non capisce un cazzo. È arrivato adesso il difensore a oltranza dell'Occidente, Vittorio da Roma. Incredibile. Aspetta, Vittorio. Resta lì, resta lì, resta lì. Allora, io credo che sarà d'accordo con Berlusconi il mitologico ambasciatore del Belize presso l'Unione Europea, Pupi D'Angeli. Buonasera, buonasera caro Pupi, buonasera, buonasera. Tutto bene? Mi senti? Non si sente un cazzo? Dove si trova? In Belize? In un garage? Beh, se incominciamo a parlare così volgarmente lasciamo perdere. No, è un ambasciatore. Tu sei qui per combattere per le tue idee e per le tue cose. Non avere paura di nulla e di nessuno. No, ma il fatto che, vedi, se uno parla civilmente e costruttivamente va bene. Se uno incomincia a dire cosa del cazzo, quell'altro, non ha senso. Ho capito, però ha perfettamente ragione l'amichetto di Arafat. Su questo ha perfettamente ragione. Non c'è dubbio. No, no, ecco che ha ragione. Ragazzi, però, se dico che ha ragione... Ma adesso, ma voglio dire, siete incredibili. Ho appena detto, su questo ha ragione l'amichetto di Arafat. Ma tu hai dici... L'amichetto di Arafat, quello si incazza, giustamente. L'amichetto. Beh, che non è l'amico di Arafat. Non lo capite. Ho detto una cosa. No, no, io non sono stato... L'amichetto. L'amichetto di Arafat. Io non sono mai stato l'amico di Arafat. Ma non ho urlato. Io sono stato consigliere e negoziatore. Consigliere. Benissimo, il negoziatore. C'era un cazzo da negoziare perché metteva le bombe a quello lì. Comunque non importa, andiamo avanti. Però, Lorenzo, non è pazienza. Un terrorista. E incominci così. Come quello dico senza urlare. Mi fa molto che c'era che lei ci sia, ambasciatore. Lasciamo perdere. No, ma infatti, infatti, calmiamoci tutti. Bisogna portare l'amichetto anche per chi ci sente. Esattamente, calmiamoci tutti. Però scusami, ambasciatore. Intanto grazie, ambasciatore. No, però voglio dire l'ambasciatore. Voglio essere educato, grazie. No, no, devi attaccare... No, no, non voglio attaccare... Io non voglio attaccare nessuno. Io dico la mia opinione. Sì, allora, Berlusconi ha fatto bene, allora, a fare quell'uscita. Secondo me, sapendo come sono le cose e vedendo, purtroppo, morire gente tutti i giorni, bambini, istruzione totale del paese. Sì, ambasciatore? Sì, posso parlare? Sì, certo, allora. Penso che sia una soluzione di buon senso trovare una soluzione. No, no, Berlusconi ha detto bene che Bella Belloni ha sbagliato ad andare a parlare con quel signore, con il signor Zelensky, no? Berlusconi ha detto... Io sono dell'opinione che è il 63% degli italiani che sono contro alla guerra in Ucraina. Hai sempre pensato che Zelensky sia un pericolo per il suo popolo, l'hai detto chiaramente. Ma io l'ho sempre detto e continuo a dirlo. È un pericolo perché, purtroppo, il signor Zelensky è un burattino messo lì, il quale, poveretto, e oggi posso dirti prima... Un capo di Stato? Cioè l'ambasciatore del Belize da del burattino a Zelensky? Ma questo è il mondo al contrario. Fatemi capire. Non mi voglio incazzare, ma fatemi capire. Il signor, dottor, Pupi e anche Dangeri, ambasciatore del preziosissimo Stato del Belize, dà del burattino a un uomo che sta combattendo contro l'invasione di Putin! Basta! Scusami. Lei ritiene di gridare così e di aver ragione? Mi lascio la sua ragione. Però, scusi, ambasciatore, quando lei dice che è un burattino deve andare fino in fondo a questo ragionamento. Un burattino nelle mani degli americani, questo è. Certo. E degli occidentali. E degli occidentali. Ma io spiego perché. Io spiego anche il perché. Un ambasciatore del Belize. Lei rispetta il personale del mio paese. Va bene? Sì, il Belize. Le spiego anche. L'ambasciatore del Belize. L'ambasciatore del Belize. Siamo a questo. Ma posso ripetere semplicemente come ambasciatore del Belize? Perché dico una falsità. Ma lo stai prendendo per il culo però. Stai dicendo, ma non lo vuoi dire, che il Belize non conta un cazzo. Quello stai dicendo. Ripeto, ad alta voce, lo stai dicendo. L'ambasciatore del Belize. E l'ambasciatore ormai è arrivato a un livello di sopportazione e di pazienza. Stampe a scoppiare. No, ma questa è la realtà. Stampe a scoppiare. Cosa succede? Io non posso scoppiare perché sono una persona del Belize. Cosa succede? Quello che non si capisce. L'ambasciatore di 300.000 abitanti. 300.000 abitanti. L'ambasciatore di 300.000. Sì, 400.000. L'aspetto a un paese come l'Ucraina. L'ambasciatore che non capisce un cazzo tutto il giorno spazia silenzio e lasci parlare. La cui bandiera è blu con due persone. La cui bandiera è blu con due persone che portano delle palme. Comunque dai, andiamo avanti. Va benissimo. Delle palme. Che cosa vuoi che ti dico? Delle palme. Delle palme. Delle palme. non è autorizzato a dire che Zelensky è un burattino. Quello stai dicendo? Io sto dicendo semplicemente che è l'ambasciatore di un paese di tre strade di Roma che sta dicendo che il capo di Stato di un paese sotto attacco è un burattino. Tutto qua. Questo è un dato di fatto. Basta tenere di parlare se non lo metto giù e chiudiamo. Le accuse sono molto gravi però. No, non lo metta giù. Le accuse sono molto gravi quelle che fa Parenzo. Lei sostanzialmente dice che lei non conta un cazzo. Parenzo viene pagato per fare questo lavoro. Io faccio un'altra cosa. Io non sono pagato e tipo quello che penso e quello che vedo. Lei non fa un lavoro diciamo fondamentalmente per fortuna sua non fa lavori. Le spiego cos'è. Sì. Questo signore purtroppo è anche tradito da quelli che dicono di aiutarlo. Perché lei ha visto che dicono che i cararmati forse arrivano tra 8 o 12 mesi. Ma lasciamo perdere questi dettagli. Tu pensi che sia un burattino? Tu pensi che sia un criminale? L'hai detto più volte è un criminale Zelensky per te. Questo è il punto. Certo perché dovrebbe dire vedendo che non lo aiutano come gli hanno promesso Ma Putin è un criminale o no? Ambasciatore Putin è un criminale o no? Partiamo in ordine. Lui ha detto che è un grande statista Putin e più volte l'ha detto l'ambasciatore è un grande statista senza dubbio è un grande statista Secondo me comunque è un grande statista Dignelo al re Carlo che il re Carlo mi pare sia importante per il Belise il re Carlo mi pare che per il Belise mi pare che ecco il principe che il re Carlo ha accolto di Cisnesia mi pare che sia importante per il Belise è il Carlo Re Carlo III che è il capo di Stato ed è il sovrano del Regno Unito esattamente perché fate parte del Commonwealth quindi tre strade di Roma fanno parte del Commonwealth ma questo va benissimo siccome io ho tre strade di Roma per questo con parioli più pratti forse anche un po' meno comunque c'è l'ambasciatore di un paese che ha tre strade di Roma ottimo ottimo benissimo va in giro ma è stato un grande protagonista della politica internazionale è stato a fianco di Arapate è stato a fianco di Arapate ambasciatore senta ambasciatore quando va presso l'Unione Europea quando ha 5 minuti dove si trova lei adesso dove è lei adesso ma dov'è lei è a Bruxelles no dov'è lei ora ambasciatore dove si trova lei ora io voglio sapere dove cazzo si trova l'ambasciatore dov'è è a Bruxelles o no è a Londra la informo che l'Unione Europea non è a Londra l'Unione Europea è a Bruxelles quindi lei adesso prende l'aereo privato va a Bruxelles perché è l'ambasciatore presso l'Unione Europea ignorante lei dà solamente lei dà gli ordini a sua moglie e ai suoi figli non a me va bene aspetta un attimo ambasciatore fermo là ambasciatore allora Vittorio ma perché sta a Londra se è avvenuto l'ambasciatore c'è un nostro editorialista Vittorio da Roma che vuole parlare con l'ambasciatore Vittorio vuole parlare con l'ambasciatore ma prima di tutto mi chiedo dove cazzo sia il Bolize il Bolize no ma non cominciano a essere offentato no no parlo in maniera molto cala perché dopo questa analisi molto attenta e molto puntuale da questo tizio mi fa capire che per essere ambasciatore gli basta forse che ne so grattarsi le chiappe oppure andare a cercare ma non puoi essere così ma non puoi essere così nei confronti dell'ambasciatore dai su ma l'ambasciatore l'ambasciatore ma l'ambasciatore è una carica che si è andata solo ma non è vero ma non puoi essere così ricamalo ricamalo è scappato pure ma vaffanculo ma che si attrezzo ma io mi chiedo una cosa ma una persona che dice un ambasciatore che dice che Zelensky è un pupasso un burattino un criminale ma veramente può recoprire una carica del genere ma come si fa mi fa capire che il Bolize o non conta un cazzo oppure questo qui è un mitomane o un mitificatore giù giù risponda a Pupi che questo è un attacco frontale molto grave guardi lei purtroppo degli ospiti impreparati e soprattutto molto maleducati ma ho capito ma questo è un attacco frontale questo ambasciatore questo è un attacco frontale questo qua ma guardi Parenzo frontale no Parenzo Vittorio da Roma quello che ha sentito di prima Vittorio da Roma le sue opinioni io non non è un'opinione è un dato di fatto tu sei un ambasciatore in teoria perché dopo questo è tutto da provare per chi non ci credo e tu hai detto che Zeleste è un criminale la tua mamma deve dargli questo pure dia di lei dia di lei all'ambasciatore Vittorio famosissimo ambasciatore mi scusi mi spiega lei come cazzo può dire che Zeleste è un criminale e lei mi dice pure che mi devo dare di lei ma lei è un ambasciatore e dice una cosa del genere una persona che si sta difendendo si sta cercando di creare un'autonomia nel suo paese attaccato da un mondiale di merda e lei dice che è un criminale perché si sta difendendo questo è l'attacco l'attacco diretto all'ambasciatore da parte di un nostro editorialista di punta Vittorio da Roma Pupi rispondi ma guarda io voglio dire questo chi non ha buonsenso è inutile parlarne ho capito perché c'entra buonsenso adesso sono persone che non hanno buonsenso e purtroppo non leggono e questo è il problema Vittorio da Roma non legge a lei sembra normale scusi torni del Belizze e poi vado a fare in culo va bene così l'ho dato pure del lei mi dico che gli vengo a dare in maniera di un culo cretino ti ho deficiente arrivederci ma vai a fare in culo adesso l'ho pure del tu vai a fare in culo te il Belizze e Putin andate tutti e tre a fare in culo questo è l'Italia questo è l'Italia che ti devo dire che ti devo dire la gente si ribella cioè la gente può stare qui a ascoltare delle valutazioni io anche ero partito come hai visto con grande tranquillità cioè non è che non volevo anzi chiedo anche scusa cioè non volevo arrabbiarmi hai preso per il culo adesso non si può dire la parola bellissima non l'ho capito ma ho detto delle cose false ho detto delle cose false io non l'ho capito sì che questo mi suscita devo ricucire devo ricucire i rapporti con chi con un signore che peraltro è ambasciatore presso l'Unione Europea che fino a prova contraria se c'è un paese che è uscito dall'Europa informate l'ambasciatore è il Regno Unito informatelo perché forse non lo sa e lui dice sono ambasciatore presso l'Unione Europea o Londra porca puttana che sarebbe come dire sai io sono ambasciatore dell'Italia in Europa però sto alle maldite ma che cazzo vuol dire stai alle maldite ma è a Bruxelles no sei ambasciatore stai dicendo veramente che è tutto falso diciamo questo stai dicendo questo stai dicendo veramente mi permetto di fare un'asservazione io dico dove l'Unione Europea l'Unione Europea ha appena perso l'Inghilterra cioè l'Inghilterra legittimamente ha scelto di uscire dall'Europa è corretto o dico una falsità è fuori dall'Europa tu sei ambasciatore del Belize cioè di tre strade di Roma presso l'Unione Europea almeno vai almeno vai lì almeno vai lì almeno Gabriele provincia di Milano avanti Gabriele dimmi Bruzzani Bruzzani Allora andrei a Napoli da Clara poi vi presento un ospite particolare con cui faremo l'ultima parte della trasmissione caro David che è un personaggio con cui ho parlato cui proprio in maniera spontanea non dico che voglio bene però mi piace il suo modo di porsi mi piace la sua spontaneità che è l'ambasciatore del Belize presso l'Unione Europea no ma quello che c'entra quello che c'entra l'ambasciatore del Belize presso l'Unione Europea non c'è più che però sta a Londra sta a Londra andiamo a andiamo a Rossella vediamo se c'è provincia di Roma buonasera buonasera a tutti dimmi dimmi che c'è allora intanto volevo dire che sono quasi sempre d'accordo più con te che con Parenzo vabbè non ce ne frega niente dimmi vabbè detto questo quel signore del Belize sono assolutamente d'accordo con lui assolutamente d'accordo con lui io ho 57 anni questa è l'Italia questa è l'Italia questa è una svalvolata il Belize è un paese denigrato da Parenzo ha detto due quartieri di Roma è un dato di fatto sono disarmati non hanno armi vogliono la pace se noi diamo l'aereo non è che uno di un piccione degli americani finisce tutto facciamo male alla guerra nucleare non è il caso deve smettere deve andare a fare l'attore e deve smettere tutto quello che sta facendo si deve mettere seduto chiama Putin per fare un accordo e devono intervenire anche le altre cose internazionali non soltanto questa è l'Italia caro Davide dovete tenere conto che questa è l'Italia questa è l'Italia caro Davide tenete conto che una parte di Italia la pensa come Rossella questa è la realtà non sono sola ti è sicuro non sono sola io parlo con tanta gente l'interesso di tante cose la pensiamo tutti così l'interesso di tante cose come sale deve andare a fare l'azione non può fare il capo di un governo prego prego e per quella dei nostri gentili radioscoltatori per la bassa imposizione fiscale attuata in particolare per l'assenza di norme misure restrittive di controllo sul versante delle transizioni finanziarie Belize hanno verata tra i cosiddetti paradisi fiscali molto grave sto leggendo da Wikipedia molto grave molto grave sarà una prossima polemica molto forte con l'ambasciatore infatti unitamente alle Filippine alla Liberia alle isole Marshall al Vanuatau al Costa Rica al Guatemala all'Uruguay il Belize figura tra le 14 giuristrizioni che in base all'ultimo rapporto del giugno 2010 dell'Ocse sono rincate sotto la voce sotto la voce Tax Heaven anche il sistema fiscale italiano paradisi fiscali paradisi fiscali grazie Rossella però io ho qui una persona con cui parleremo nell'ultima parte della trasmissione che si chiama Alan Ruggero che si chiama ha fatto il giugno che si chiama ha fatto il giugno che si chiama